Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai giocardando! Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mr. Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi il tirante e le testine dello sterzo Bulk usate in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare le biellette e la testina dello sterzo devi sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote per accedere al sistema di sterzo. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque prima di iniziare di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere la testina dello sterzo. Gli elementi da rimuovere sono spesso bloccati. Per facilitare l'operazione puoi spazzolare e usare dello sbloccante. Fai un segno con un pennarello tra la bielletta e la testina dello sterzo. Ti servirà più tardi quando la smonterai e rimonterai. Usa una chiave inglese da 24 per sbloccare il dado di sostegno della testina dello sterzo. Il controdado serve a evitare qualunque rotazione dei due pezzi l'uno sull'altro. Rotazione che potrebbe modificare la geometria del veicolo. Adesso usa una chiave a bussola con inserto da 18 e sblocca il dado di sostegno della testina dello sterzo. Se non hai un estrattore per testine, usa un martello per spingere con un colpo secco il dado che hai appena posizionato in cima alla filettatura. La testina deve staccarsi dal perno. Spingi sul perno della testina solo se vuoi cambiarla, altrimenti rischi di rovinare la filettatura. Svita la testina stando attento al segno che hai fatto e contando il numero di giri necessari per toglierla. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Con un calibro, misura la distanza tra il controdado e l'estremità della bielletta. In tal modo, quando la rimuoverai, potrai metterla nella posizione più vicina possibile a come stava prima. Rimuovi il controdado dalla bielletta. Usa una pinza per rimuovere l'anello di metallo esterno del soffietto di protezione della bielletta. Usa un cacciavite piatto per rimuovere l'anello di metallo interno del soffietto. Taglia con una taglierina la parte esterna del soffietto per poterlo rimuovere. Rimuovi il soffietto. Usa un estrattore per biellette, un attrezzo specifico per questo lavoro, per sbloccare il tutto senza fatica. Inserisci l'estrattore fino alla parte fissa della bielletta. Poi usa una chiave a bussola con prolunga lunga facendo un buon sforzo per ruotarla in senso anti-orario. Se la bielletta è dotata di intagli, sbloccala usando una chiave regolabile. Ciao, sono Nono di Justo. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuici al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie. Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mr. Auto e nel link nella descrizione. Prendi il nuovo snodo assiale e svita il controdado che ci trovi sopra. Poi rimettilo a posto sulla cremagliera dello sterzo. Sempre con lo stesso attrezzo, o con una chiave a rullino, blocca la bielletta, ma questa volta in senso orario. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Poi rimuovi l'estrattore. Ti consigliamo di usare un anello a vite, perché l'accesso è molto scomodo per far passare un attrezzo specifico. Prendi il nuovo soffietto. Ingrassalo sulle estremità per facilitarne il rimontaggio. Stringi l'anello. Stai attento a non fare troppa forza, altrimenti rischi di rovinare il soffietto. Poi rimonta l'anello esterno. Riavvita il controdado fino alla distanza che hai misurato prima. Prendi la nuova testina. Rimetti in posizione la testina effettuando lo stesso numero di giri che hai contato quando l'hai smontata. Rimonta la testina nel perno. Rimonta il dado fornito con il nuovo pezzo e stringilo con una chiave a bussola. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Riavvita il dado della testina dello sterzo dal lato della bielletta. Adesso puoi rimontare le ruote. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa. Ciao, sono Nonno di Youstool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuici al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.